Il tracciato non è ancora del tutto completato, ma mostra già i suoi primi benefici. Il giovane Cristian è infatti tra i primi a provare la nuova pista realizzata in settimana per compattare la strada d'accesso all'anfiteatro del Parco Miralfiore. Sicuramente permette di vedere gli spettacoli da un po' più vicino. Il passaggio è molto più comodo, perché prima eravamo costretti ad andare in cima alle scalinate. Il terreno è molto più scollesso, perché ci sono le mattonelle, e così sicuramente i benefici sono tanti. Un intervento sollecitato da Marco Perugini e Marusca Palazzi, che stanno mettendo a terra il piano cittadino di eliminazione delle barriere architettoniche, rispondendo ad una delle tante istanze presentate dai pesaresi portatori di disabilità. Questo è uno spazio adibito d'estate, con grande successo agli spettacoli e alla cultura, e era uno spazio che difficilmente era raggiungibile da chi aveva problemi di ambulazione, chi era a carrozzino, chi aveva problemi di ambulazione in particolare. L'abbiamo reso accessibile grazie all'intervento pronto del Centro Operativo Comunale e dell'assessore Belloni, con cui mi sono confrontato in queste settimane, in questi mesi, per trovare la soluzione più idonea. Una soluzione che, come vedete, ha riguardato una stradina, un percorso, che consente alle persone di raggiungere la platea e l'anfiteatro in maniera del tutto accessibile e inclusiva, ma soprattutto nel rispetto del luogo in cui ci troviamo. Il Parco Miralfiore si tratta di terra e sabbia stabilizzata, che consente alle persone di raggiungere senza problemi il luogo dei spettacoli. Fra chi più di altri ha sollecitato l'intervento la giovane Giorgia Righi, che ha vinto un'altra battaglia dopo le tante che l'hanno portata ad essere soggetto ispiratore del film ancora volano le farfalle. I lavori sono stati eseguiti ed ora una pavimentazione liscia consente un accesso comodo e fruibile a tutti. Sì, devo dire, abbiamo realizzato questo passaggio per disabili, che abbiamo terminato qualche giorno fa e si dovrà in qualche modo stabilizzare adesso e sarà fruibile, diciamo, fra pochi giorni sarà utilizzabile in maniera vera da chi ha la necessità e bisogno di utilizzare un ausilio per recarsi dove magari vuol vedere uno spettacolo, ascoltare una conferenza e stare insieme agli amici. L'abbiamo realizzata con l'intervento del centro operativo comunale, quindi fatto in casa, come le cose buone. Nonostante le polemiche che continuano, forse perché ce l'hanno con me, ma questo ormai siamo abituati, io ricordo anche qualche anno fa quando abbiamo realizzato l'area giochi totalmente inclusiva, qualcuno aveva scritto che i bambini disabili si divertivano a rotolarsi sul prato, vorrei vedere bambini disabili a rotolarsi con la carazzina sul prato. Però a parte questo noi continuiamo il nostro lavoro per valorizzare il parco Miralfiori, 23 ettari nel cuore della città, un parco che è diventato il parco di tutti, prima era forse un parco per pochi. Non devo soltanto occuparmi di rendere accessibili i luoghi dell'amministrazione o gli ospedali, che certamente devono essere raggiunti da tutte le persone con disabilità, ma i luoghi della cultura con la stessa forza. E se penso anche alla città della cultura, il prossimo grande evento della nostra città sarà proprio qui, a fine marzo, il 23 se non erro. Io voglio una grande partecipazione sociale, voglio che le persone non solo assistano, stiano presenti a uno spettacolo, ma che vivano questa esperienza nella stesso luogo di tutti gli altri. Qui si poteva accedere allo stesso, le persone con disabilità potevano rimanere in alto, ma l'idea che possano scendere anche nel parterre, che siano a contatto con gli attori o lo spettacolo, realmente mi rende molto orgogliosa di questi lavori che l'amministrazione ha fatto. Sono molto contenta, anche era una richiesta da parte di molti cittadini.